Luca ha solo sei anni, dall'anno scorso ha intrapreso una dura battaglia contro la leucemia che con grande gioia dei familiari ha sconfitto trascorrendo però i suoi giorni da un ospedale all'altro e lui la mascotte della giornata organizzata a Trani dagli operatori di emergenza radio in collaborazione con i clown del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Bari per una speciale raccolta di giochi nuovi da regalare ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico e insieme a tanti altri bambini anche lui che sa bene cosa vuol dire trascorrere le feste lontano dal calore di casa ha pensato di portare alcuni giochi per alleviare i dolori che porta la malattia noi cerchiamo di metterci tutta la nostra anima, il nostro spirito in questo perché ci crediamo tantissimo, perché ci sono tanti, tanti, veramente tanti bimbi che insomma hanno bisogno hanno bisogno anche di un sorriso e magari anche di un gioco che insomma per loro è una cosa credo bella abbiamo raccolto veramente parecchio, non ce l'aspettavamo davvero quindi la gente ha dimostrato di avere un grande cuore qua continuano a farmi gli scherzi, siamo clown quindi ci divertiamo così bambole, colori, macchinine, sono tantissimi regali raccolti tra palloncini e risate e questo è il modo più bello di confortare le giornate buie dei bambini malati di tumore con l'augurio che tutti possano tornare presto a casa Buon Natale a tutti i bimbi malati Buon Natale Grazie, buon Natale a tutti i bimbi, vero? Buon Natale